Come creare un menu per il video? Passo 1. Importare file multimediali e aggiungerli alla timeline per l'editing. Il nuovo progetto vuoto è creato. Clicca su Importa per caricare file multimediali nel programma. Seleziona il tuo file e clicca su Apri. Il file importato verrà posizionato nella libreria multimediale. Selezionalo con il mouse, poi trascina e posizionalo nella timeline. Quando il file ha aggiunto, puoi passare alla creazione del menu. Passo 2. Dividere il video in capitoli. Passa al pannello Menu Disco. Clicca su Capitoli. Clicca con il mouse all'interno della scala di timeline dove desideri che il capitolo inizi e utilizza il pulsante Aggiungi al di sopra della scala per impostare un marcatore. Della stessa maniera, crea tutti gli altri capitoli. Passo 3. Selezionare lo stile da applicare al menu del disco. Clicca su Stili. Fai doppio clic sullo stile che si desidera applicare. Per personalizzare lo stile selezionato, clicca all'interno dell'area di lavoro con il mouse, seleziona il file caricato e trascinalo nell'area di lavoro. Per caricare il contenuto dal disco rigido, clicca destro all'interno dell'area di lavoro, seleziona l'opzione Carica contenuto, trova il file necessario e clicca su Apri per caricarlo. I file saranno aggiunti allo stile selezionato. Fatto! Assicurati di aver spuntato l'opzione menu del disco attivato e clicca su Produci per salvare il video in formato DVD o Blu-ray. Grazie a tutti!